Ma chi se l'aspettava? Oh, una volta tanto, sembra che ho avuto fortuna anch'io, vero? Allora, Carlos Varela, è corretto? Sì, sono io, Carlos Varela in carne ed ossa. Molto piacere. Piacere, lei è? La psicologa Riccardo Raltese. La verità è che sono stato molto fortunato a trovare questo lavoretto, no? Non si tratta di un lavoretto. Ah, lo so che non è esattamente un lavoro, però dai, non prendiamoci in giro. Questa cosa che proponete come minimo è un'occasione della Madonna. Un'occasione della Madonna. Lei dovrà sempre dirci tutto ciò che le passa per la mente, anche se pensa che non abbia senso, anche se pensa che sia inadeguato, lei ce lo deve raccontare. Noi poi analizzeremo nel dettaglio ciascuna delle sue parole e ciascuna delle sue emozioni. Come sta? Guardi, allora, effettivamente mi sto un po' in nervosetto. Però guardi, scusi, qui finisci che iniziano anche a girarmi se lei non la smette con le sue domandine. Ma siamo qui per fargli le domande. Il patto era questo, per questo la pagheremo. Quanto ci metterà un uomo solo a fare mezzo buco? Mi scusi? Mi ha ascoltata? Sì, ma... Ha capito la domanda? Era questa la domanda. Le ho detto che avrei formulato la domanda. Sì, me l'ha detto, però io... Risponda, per favore. Me la potrebbe ripetere? Vuole che gliela ripeti. Sarebbe perfetto. Perché? È che mi ha preso la sprovvista e non l'ho ascoltata attentamente. L'ho avvisata per tempo, lei mi ha detto che era tutto orecchi. Ma io mi aspettavo un altro tipo di domande. Oh, santo cielo... Sì. 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 Sì.